Alle mie spalle vedete la chiesa parrocchiale, famiglie residenti a Durate si potevano contare sul palmo di un'ambiente a Durate fosse stato creato dagli insufri. Qui trovano lavoro moltissimi turatesi, il centro abitato inizia a espandare. Allora quando è che Durate diventa un vero e proprio villaggio? Poi sconfitti con l'arrivo dei Romani. Questo contesto negli anni 80. Per questa piazza apparentemente comune sono passate importanti figure storiche. A proviamo immaginare di poter fare un salto indietro e anche Benito Mussolini. Partito da 700 i caimi utilizzano il palazzo solo per pochi giorni l'anno. Ecco probabilmente cosa avremmo visto 3.000 anni fa. Termina così dopo 500 anni un periodo feudale di Durate. Buonasera e benvenuti a questo viaggio alla scoperta di Durate durante una visita ai veterani. Grazie a tutti.